Che non fosse un normale litigio tra marito e moglie lo ha capito quasi subito. Urla ghiaccianti, al limite dell'umano, lo hanno messo in allarme, anche se ormai era troppo tardi. Ma è proprio grazie al vicino di casa che ieri sono stati scoperti i corpi senza vita di Cristian e Cristine, due coniugi di origine rumena in Italia da 15 anni. Il vicino della coppia, Nicola Torrieri, ha raccontato al quotidiano il centro di essere sceso in pigiama per citofonare, dopo che, allarmato dalle grida, aveva provato inutilmente a chiamare Cristian. In assenza di risposte ha allertato i soccorsi, quasi avesse intuito che in quella situazione davvero non c'era nulla di normale. Del resto, Nicola Torrieri conosceva piuttosto bene la coppia. Sapeva che i due avevano vissuto in una certa serenità. Avevano un figlio che adoravano, erano riusciti a comprare casa in viattagliamento, lavoravano entrambi, almeno fino a poco tempo prima, quando Cristian ha perso il lavoro e iniziato a manifestare segnali di depressione. Come spesso accade, il compito di reagire è toccato alla moglie, Cristine, donna forte, socievole, grande lavoratrice. Tuttavia, qualcosa in questo delicato equilibrio deve essersi guastato. Una corrosione interna che ha armato la mano di Cristian fino a macchiarla irrimediabilmente di quel delitto, ingiusto come tutti i delitti e forse anche di più, perché ha tolto ad un bimbo la propria madre. Il papà di quel bimbo, secondo la prima ricostruzione che dovrà comunque essere avvalorata dagli esami, avrebbe prima accoltellato la moglie e poi si sarebbe tolto la vita piantandosi un coltello nell'addome, gesto drammatico dalla sapore quasi orientale. L'unico atto di buonsenso in una mattinata scellerata è stato l'aver portato a scuola il figlio prima di assassinare la madre e poi seguirla. Sarà difficile spiegare le ragioni, già solo la parola appare inadeguata, di questo gesto terribile. Sarà addirittura impossibile immaginare che un giorno il figlio possa capirle.